Dal nostro ospite, il nostro primo ospite, buongiorno, diamo il benvenuto a Antonio Buzzi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Ecco, neopresidente di Conf Cooperative Feder Solidarietà Emilia Romagna. Quindi benvenuto e congratulazioni per questo suo nuovo incarico. Grazie. Dunque Buzzi, solo le vostre cooperative, quelle di Conf Cooperative, cooperative sociali, nella nostra regione contano 460 cooperative aderenti e occupano quasi 30.000 persone di cui 11.000 svantaggiate. Quindi un mondo molto importante. Gli ultimi anni, segnati, lo sappiamo tutti, dalla pandemia, sono stati di grandissimo impegno per il vostro settore. Lei che ha appena preso questo incarico, traccia un bilancio di quello che trova, di quello che è stato? Volentieri. Un bilancio che vede sicuramente delle note positive affiancate da alcune criticità che devono far riflettere. Le note positive sono sicuramente quello di avere tenuto in questo periodo di pandemia e di avere aumentato il numero dei servizi con un impegno straordinario dei nostri operatori per essere al fianco delle persone in grave difficoltà, anche delle persone malate da Covid che richiedevano sia al domicilio che presso le strutture dei servizi importanti che noi siamo riusciti a garantire. Alcune note invece che fanno preoccupare perché a fronte di questa espansione dei servizi abbiamo dovuto contrarre in maniera significativa gli avanzi e i risultati di esercizio, cosa che per un breve periodo per noi è possibile, anche perché siamo delle cooperative sociali no profit, ma che nel lungo periodo ovviamente rischia di diventare un problema anche per la sostenibilità delle imprese. Quindi tutto quello che avete guadagnato l'avete dovuto rimettere in questi servizi. Vogliamo ricordare in quali ambiti agite, dalla scuola all'assistenza anziani, cosa fate? Certo, sono moltissimi gli ambiti in cui io operiamo ed è impossibile fare un elenco esauriente, però ovviamente ci occupiamo di infanzia, quindi gli asili nido, le scuole materne, anche nella primaria siamo molto impegnati. Siamo impegnatissimi anche in tutti gli ambiti scolastici per quanto riguarda i servizi educativi e soprattutto di appoggio scolastico. Quindi laddove ci sono delle gravi difficoltà, noi siamo a fianco di questi bambini e delle loro famiglie. Poi ovviamente ci occupiamo di centri estivi, di doposcuola, poi passiamo per tutte le fasce di fragilità. Ci occupiamo di disabili psichici, fisici, psichiatrici, di dipendenze patologiche. Ci occupiamo di servizi innovativi come l'housing sociale. Ci occupiamo ovviamente della popolazione anziana, che è così importante e così in crescita, anche e soprattutto nella nostra regione, sia con servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari. Poi l'aspetto sociale del vostro lavoro non è solo quello che fornite, ma anche il fatto che impiegate persone, fate lavorare persone svantaggiate per varie ragioni. Perfetto. Noi tramite le cooperative sociali di inserimento lavorativo promuoviamo il lavoro a persone che diversamente non troverebbero un'occupazione nel mercato del lavoro ordinario. Questo è un lavoro particolarmente importante. Sono 11.000, come ricordava lei, le persone che le nostre cooperative riescono a inserire lavoro in questa regione. Se pensiamo che ICON, l'associazione dell'Università di Bologna, Facoltà di Economia del No Profit di Forlì, ha promosso una ricerca per valorizzare il valore sociale di questo sistema, dell'impiego al lavoro di disabili svantaggiati, ha quantificato, per quantificarli in euro, per renderlo fruibile a tutti, comprensibile a tutti, ha quantificato in 2.700 euro anno il vantaggio che il sistema complessivamente ha dall'impiegare al lavoro una persona disabile invece che tenerla assistita. Chiudiamo guardando il futuro, perché dopo la pandemia dite sulla testa. Cosa vuol dire? Che cosa state chiedendo adesso? Sulla testa racchiude due concetti molto importanti. Innanzitutto dobbiamo uscire dalla quotidianità per avere visione di futuro e quindi sulla testa è un invito che facciamo alle cooperative e ai cooperatori per guardare al futuro e alle scadenze importantissime che ci aspettano. C'è il rinnovo dell'accreditamento regionale, primo? Perfetto, nel 2024 scadrà il sistema regionale di accreditamento sociosanitario, un sistema importantissimo per questa regione che ha garantito servizi di grande qualità sui territori. Noi siamo impegnati e ingaggiati insieme alla regione per rinnovare questo sistema e renderlo adeguato ai tempi. Soprattutto dal punto di vista del riconoscimento economico dei vostri lavoratori. Questo per noi è l'altro elemento importantissimo. Noi abbiamo bisogno di dare valore sociale all'operato dei cooperatori sociali che hanno fatto cose straordinarie, soprattutto in questo periodo di pandemia, ma abbiamo bisogno di dare valore economico. Che vengano adeguatamente remunerati. Esatto, che vengano adeguatamente remunerati. Grazie, grazie ad Antonio Buzzi per questo punto sulle cooperative sociali nella nostra regione. Grazie di essere stato con il presidente di Conf Cooperative Fede Solidarity. Grazie a tutti.